Sono patti, sono persone che veramente devono farsi curare, io leggo dei commenti veramente sotto dei post che parlano delle ragazze che se lo meritano, la frase se lo sono meritate, ma chi è che si merita una roba del genere? Nessuno, nessun essere umano, ma come fai una persona che scrive una roba del genere? È veramente una persona che si deve far curare in primis, io sono scioccata. Quando leggete quei post, che dentro, vedo che adesso con fatica si trattengono le lacrime e quant'altro, la rabbia aumenta di più? Sì, ovvio. Violentata e offesa, questo è il concetto. Dottoressa? Chiunque in questo momento non sappia empatizzare con quest'emozione, secondo me dovrebbe porsi un grosso dilemma sulla propria salute psichica. Se c'è qualcuno da casa ora che non sta capendo cosa provi questa ragazza, secondo me deve andare di corsa a farsi visitare da uno bravo. Mi viene...